salve buon pomeriggio sono luigi quattro mesi post intervento sono molto contento del risultato ancora ringrazio il professore Antonini e ho avuto modo ovviamente di testarla sono davvero molto felice del risultato sia funzionale sia estetico davvero molto bello mi sono documentato inizialmente ho vissuto bene con questo problema per un annetto ora non ricordo tanto bene quindi non volevo... dopodiché ho iniziato ad informarmi con il miglior modo che ci possa essere credo online vedendo svariati video e roba varia e niente sono arrivato a conoscenza del professore Antonini e da lì ho iniziato a seguire attima di tutto la sua pagina i Surgery Tube dove si possono visualizzare vedere interventi chirurgici visionare attivazioni di protesi e quindi anche lì mettere da parte tutti i dubbi che si possono avere almeno online avere una risposta abbiamo provato altri rimedi per non andare subito all'impiantare una protesi facendo diversi trattamenti al PRP questo ha dato dei benefici sicuramente però sicuramente nello stesso tempo non aveva risolto il mio problema che era dovuto comunque ad una fibrosi che aveva il corticamenti del pene abbiamo fatto una terapia con farmaci però anche questi non portavano a finire questo problema questo problema a far terminare questo problema che avevo e alla fine si è arrivati alla soluzione che di impiantare una protesi e ripeto è stata la migliore scelta che abbia fatto diciamo dopo un mese già ero pronto per usarla e da lì in poi mi è cambiato totalmente questo questo aspetto l'aspetto diciamo di di avere un rapporto fortunatamente tutto è andato nel verso giusto ovviamente quello che mi teneva molto in sicurezza era il fatto che il professore mi ribadiva insistentemente che dovevo stare tranquillo e così è stato fortunatamente il post operatore è stato tranquillo qualche dolorino che comunque si può tenere a bada con farmaci qualche antidolorifico però in linea generale in dire di che qualche dolorino dovuto all'operazione all'inizio ovvio che un pochettino di differenza ci sta nel frattempo che uno ci si abitua diciamo alla cosa che però a mio parere dopo un mesetto e mezzo due mesi all'attivazione risulta avanti sento anche un tipo di come dire di nell'attivazione riscontro quasi una sensazione quasi naturale nel nel sentire il riconfiamento dei cilindri del dispositivo che si attiva è il godimento uguale non è cambiato niente la sensibilità uguale anzi devo dire se posso lo vedo pure cresciuto leggermente un po più grande nel sono molto contento nella di massima i dolori ripeto si possono tenere a bada il godimento è lo stesso anzi aumentare un po la libido magari il pensiero di molto felice sicuramente sì c'è un riconfiamento del pene affluisce sangue si sono una sorta di simili erezioni ovviamente non è in erezione piena però riesco a vedere che il pene ma è come se vada in erezione nel momento in cui lo richiede al forum se non erro parliamo di frank talk un forum internazionale anzi mondiale perché ci sono voci da tutto il mondo a riguardo di questi problemi diciamo che noi uomini a volte possiamo presentare come sempre si parla di lei del professore antonini ovviamente non si poteva fare almeno è lì si vengono raccolti tanti tanti pensieri di persone che sono state già operate chi no chi deve farlo e chi quindi veramente si può avere accesso a tanti dubbi o risposte di persone che già hanno vissuto la stessa situazione quindi molto importante dal punto di vista informativo e per chi si affaccia a questo tipo di interventi e ho consigliato già più di una volta persone che erano lì impacciate non sapevano se andare avanti o meno nell'avere questa operazione di impiantare una protesi e dunque io ho consigliato che meglio non perdere tempo e contattare ovviamente le persone più competenti che si possono trovare nell'ambito e di continuare il percorso perché non se ne pentiranno mai una scelta veramente io penso è la scelta migliore che abbia mai fatto nella mia vita mia moglie è contentissima ovvio poi venendo da quel periodo in cui io ho sofferto di questa maledetta patologia così la voglio chiamare e quindi ovvio poi ad avere un rapporto senza questi intoppi che uno chi viene da lì capisce a cosa cosa mi riferisco quindi avere un rapporto molto libero molto senza pensiero e senza magari godere del vero e proprio rapporto sessuale senza avere altri pensieri per la testa che poi finiscono in ogni modo per portarti nelle vie oscure e perdere comunque la testa ovviamente insieme a tutto questo un cane che si morde la coda se così possiamo dire quindi totalmente diverso io non ho avuto modo di testare molti urologi o comunque persone nel addette nel campo di cui il professore Antonini si occupa però io posso dire che per quello che io ho conosciuto il professore Antonini e per come si si è rivelato nel tutto il percorso fino ad arrivare all'impiantare della protesi io mi sono sentito sempre in mani sicure e con senza preoccupazioni poi un po di preoccupazione pur sempre umana è pur sempre normale però l'importante che si sta in mani sicure e tutto andrà bene proprio su questo sono sincerissimo e aggiungo non cambiare il professore Antonini con nessun altro almeno assolutamente 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 Grazie.